amici per la pelle sul teleschermo blu v'ho riportato il tonari come è tornato il bel tempo è tornato anche lui spingitore di comete di super spingi ti voglio dire una cosa ho sentito la sedia di plastica e di una qualità infima ergo ti come dire incoraggerei a non spingi ma non barcolli non barcollo according to me you could precipitate sarebbe e sarebbe proprio lo spettacolo quello vero proprio il capodanno forbidden planet dopo il capodanno cinese ma il successo ce l'ho date voi amici da casa teleaspettatori del tg comics noi però però nonostante tutto vi invitiamo a spolliciare come dicono quelli bravi perché le visualizzazioni ne abbiamo svariate però in confronto ai pollicini e sono quasi un decimo ergo ogni tanto qualcosa un pollicino in su e schiacciatelo se ci volete bene che se non ci volete bene non mettete quello in giù non ci guardate proprio cioè insomma state in compagnia con noi perché se vi fa piacere vi fa piacere perché se no non vi fa piacere va bene bellissima introduzione il tonari è pieno di energia la sta trasmettendo anche a me che se fosse non fosse stato per lui veramente oggi non mi andava veramente proprio non mi andava proprio di girare nonostante vi avessi fatto tre video la settimana scorsa perché vi voglio bene e allora a te l'odore attento con i sardi che stanno un po arrabbiati no 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 era un'esclamazione di gioia ok ok nata never agenzia anzi viva il popolo sardo sempre viva poi agenzia alfa nata never per sergio bonelli editore una storia 6 euro e 90 288 pagine che te la leggi in 24 ore farima esatto sergio bonelli editore richi ma tu non vieni a salutare il castello degli immortali venghi la prego dai faccio un cuorvo dai non sai che è che me pagano i sponsor e poi c'è un sacco di richieste che devo fare così ok allora aiutaci aiutaci a far salire le visualizzazioni no mi sa che così stanno a diminuire basta basta così grazie di chi basta va bene e quante storie ci stanno una storia completa il castello degli immortali e abbiamo qua soggetto e sceneggiatura stefano piani disegni e copertina ivanzoni lettering luca corda ma ci hai fatto vedere qualcosa dell'interno ai nostri amici adesso facciamo vedere bravo a te un po la lontananza da tg com si fa bene perché ogni volta torni a cresciuto vero anche come grammatura livellato torno livellato vabbè io per festeggiare il rientro di gianmarco parto con un puma master anzi ne ho un paio di puma master questo è grosso this is gross really really gross se riconoscete un po la firma eh sì è giro taniguchi the cofanet guardate che bomba i think it's a one five eight dieci se non vado errato centodiecimila euro eccolo qua e all'interno però ci sono ben ben cinque storie di giro e tutte quante eh riproposte in versione cartonata a partire dall'uomo che cammina vediamo se mi ricordo tutti l'uomo che cammina vai come allevare un cane gourmet l'olmo al tempo di papà daie 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 bello devo dire molto molto bello sono belli pure i volumi quelli singoli all'interno cartonati e belli cicciotti bell'edizione diciamo che costicchiano ai 22 euro costicchiano la qualità precevole precevole fattura precevole fattura sia il comodo io proseguo con gli hanno fatto a ristampare l'hanno ristampati esattamente 38 e 39 per la berser collection che mi ci sembra più che 5 euro ciascuno dai a 5 euro non a 550 euro 5 euro per il capolavoro di cantario piura chissà se i nostri fanno stampate di più sarà per quello perché alcune delle quelle della black edition la serie nera a 550 stanno ma soprattutto vedremo mai la fine della storia il fantasma di Anna never Dylan dog è arrivato finalmente il 388 esercizio numero 6 che stiamo un paio di mesi in ritardo mesà ormai accumulato alla faccia della contemporaneità o del solo mese proprio indietro 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 non possiamo neanche aprirlo perché ci sono dettarox e quindi a voi scoprire gli autori anzi chi l'ha comprato in eticola se ci dice sotto storia e autori magari ci fa una cortesia meno 12 alla meteora ok attenzione io al massimo posso arrivare stasera non ci arrivo a 12 io ho già fatto tu benissimo meteora per tutti come mete per tutti ultraman numero 10 per star comics al prezzo di 5 euro e 90 volume con sopra coperta i nostri amici comunque va ultraman anche in chiave moderna niente niente malio ora io devo fare un doppio un doppio carpio lavoro perché non contento del primo boom man master questo è il secondo boom man masterone ed è quello di alita eccolo qua questa è la mia edizione la panzer edition non che infatti c'è anche la versione della jam mark edition esatto però ce la teniamo noi non è che la vendiamo il prezzo questo dovrebbe essere 75 pleuroidi tre volumi gigantoni veramente gigantoni i miei polsi sono morti ed ho ed ho ed ho ed ho anche da farveli vedere sciuolti belli però belli eccolo qua belli look quanto sono erti these are e c'è anche la faccetta che dice dal 14 febbraio al cinema oh yeah ok kai do questo è il numero uno a sto punto vi faccio vedere tutti è diretti numero due e numero tre ammazza quanto è grosso qualche miseria sono veramente bene però non sono pesantissimi no la carta è molto leggera bene però che ho visti così belli grossi si visti così vi devo dire è una bella c'è un certo piacere si 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 non male non male non male ma prego ma prego e andiamo avanti con il volume numero 19 delle adventure of simbad magari lo metto dritto forse è meglio per star comics al prezzo di 4 euro e 30 e molto e dico pure una cosa vai è l'ultimo no non mi dì sì e lui è finito la swan è finito così col fischio pure chi for reading ogni tanto ogni tanto me ne accorgo pure io raramente ma me ne accorgo pure io poi una rivelazione una rivelazione un manga che non è un manga ma è un euro manga 7 euro e 90 radiant che vende sempre di più è un continuo grosso successo per manga senpai la tua esistenza mi è preziosa fratellino toni valente ci regala un'altra avventura assolutamente interessante eccolo qua sovraccopertinated anche lui e dentro c'è la pubblicità c'è proprio il volantino di mecazza che non è una parolaccia ma è un altro euro manga che è arrivato quest'oggi dovremmo averlo qua in the middle of the night ok andiamo avanti con il numero 25 di ore sama teacher per 4 euro e 30 per star comics yes è proprio 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 lei e questo ti piace ah c'è anche lui goburini esatto oddio il numero 3 numero 3 primo numero che è secondo numero mi è piaciuto di più il terzo numero non muoio e ci vediamo un po' come va avanti a me mi ha trippato una cifra questo gruppone mega galattico alla ricerca della caccia degli goblin c'è anche la tavola a colori 6 euro e 50 jpop che non ne sbaglia una no 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 e andiamo avanti con il numero 48 di ginta ma sempre star comics 4 euro e 90 volume con sovracoperta yes il problema è in giappone che diceva che voleva finire o aveva finito qualcosa del genere stiamo lì però mo non mi chiedete troppo oh nanairo inko ecco qua invece un altro lavoro di osamu tezuka eccolo qui number 3 9 euro e 90 per la ikari eccoci ma non è possibile che un cavallo possa fare una cosa del genere un cavallo attore cavallo goloso no quello era del filo goloso o c'era anche il cavallo non lo so non ti ho mai guardato con occhio pieto dove non lo so non lo so ma potrebbe anche essere hanno fatto tutti golosi quindi e andiamo avanti col numero 12 di mix 4 euro e 50 per star comics quanto ci piaci quanto ci piaci quanto ci piaci io l'adoro alla follia mi piace veramente tanto uno dei pochi manga che ho letto due volte è stato rough Mitsuro e Mitsuro è impossibile non apprezzarlo non apprezzarlo no no lo adoro Takaneana planet manga numero 7 4 euro e 50 dove Takana qua ha toccato il fondo capito attenzione questo ha toccato il fondo può solo che risalire dai andiamo andiamo avanti con One Piece Party 4 euro e 90 star comics this party this is a real party ha il numero 4 questo non è stato fosse il numero unico ma è il numero 4 yeppa 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 poi fruit basket planet manga 15 euro 4 e 90 Yuki rievoca il proprio passato e una grande verità viene alla luce e non te dico altro attenzione attenzione la si vede Natsuki Takaya e questa a te piace il sacco Mob Psycho Trento delirantissimo di One numero 10 4 euro e 50 sono rimasto un po' indietro ma devo recuperare assolutamente perché comunque c'ha c'ha il suo perché veramente c'ha il suo perché un manga con un certo spessore non è da tutti non è da tutti non è da tutti poi la principessa cadavere arriva al numero 21 sempre planet manga 4 ore 20 Coaku l'incarnazione del Buddha del futuro sta per dare all'umanità la salvezza profetizzata ma il suo volto non sarà quello di una divinità misericordiosa ergo stiamo un pochino attenti direi che dobbiamo stare un pochino attenti attenti sempre all'alerta sempre all'alerta leviussast numero 5 5 euro e 90 per Star Comics sono rimasto alla prima mini e prima o poi mi deciderò a leggere pure questa seconda parte perché la prima mi era piaciuta notevolmente notevolmente attenzione Boichi è presente sia con Dr. Stone ma anche con Origin tra le altre cose mi sembra che abbia recentemente annunciato la fine di questo manga in Giappone quindi non dovrebbe mancare molto posso solo immaginare cosa proverebbe un umano e sì perché qua si parla di pseudo-androidi con forme umanoidi se non lo vado l'ho letto esatto lui è un androide che cerca di con l'ultimo ordine del padre prima di morire del suo creatore che gli dice cerca di essere insomma di vivere con dignità come un essere umano io lo trovo molto bello si legge bene 4,50 Metacabox volume 18 ci ho messo un po' a capire qual era il titolo 5,90 euro yes non manca tanto alla conclusione questo dovrebbero essere 22 se non vado errato poi la Shockdom ci ripropone Daniele Fabri con disegni di Stefano Antonucci fascisti su Tinder al prezzo accessibilissimo di 5 euro eccolo qua e questo è proprio è proprio un testo eccolo qua con qualche disegno di Stefano Antonucci e voilà Shockdom via numero 3 per City Hall della manga Senpai a 7,90 euro anche questo volume con sovracoperta eh sì che non era partito niente male era una storia interessantissima dovrei proseguire sì sì perché chi c'era dentro Sherlock Holmes insieme a non mi ricordo chi non era male non era male interessante anche questo tipo un euromanga se non vado se non vado errato sì perché vedo Ghilom la Peir la Peir sì sì la Peir la Peir le Peir le Mel le Ranch la Peir Amanshu arriva al numero 12 5,90 euro passato alla J-pop da qualche numero dopo essere stato per un certo periodo di tempo nelle fila della passata GP Publishing eccolo qui numero 12 ve l'ho detto Kozue Amano è tutto fatto a mano mamma mia la forma smagliante mamma mia smagliante smagliantissima perfect crime 5,50 euro planet manga numero 6 pur lui si muovicchia bene vedo di che si muove niente male Citrus invece grossa sorpresa quarto numero di 10 eccolo qua una gita scolastica è una splendida occasione per stare insieme e divertirsi numero 7 quarto numero in realtà ci sono state 5 uscite perché il primo numero ha una doppia cover una variant di Mirka Andolfo eccolo qua grosso successo grosso grosso successo ma proseguiamo numero 11 per Servamp 4,90 euro sempre J-pop yes anche in questo caso J-pop continua con quello che invece penso possa essere considerato il suo titolo di punta anche se molti stanno raggiungendo vette inenarrabili come vendite abbiamo Tokyo Gor Re eccolo qua numero 15 prezzo 5,90 euro vero e proprio blockbuster verissimo suicida sbravram via e andiamo avanti con il numero 5 che anche questo mi sta piacendo molto di Unemployed Concentration Camp 6,50 euro anche se nell'ultimo numero ho fatto un po' di fatica per accapizzare perché era passato parecchio dall'uno all'altro dall'uno all'altro cerco di spero di non prendere niente basta ma apposta va bene era un po' rischioso perché comunque è un fumetto con tanta suspense e tante intrichi esatto Star Wars spillato arriva al numero 44 come l'autobus che prendevo io per andare a scuola quando andavo al liceo all'interno Podameron Contrattacco Ribelle Ghislaine Larroca solo un zuetai via così prezzo 3,50 euro andiamo numero 60 per Kenichi 4,50 euro edito da Planet Manga eppure lui non mancava tanto la conclusione se non sbaglio poi abbiamo Deadpool morto eccolo qui sarebbe il numero 9 della collana 100% dedicata a Deadpool 100% best la fine si avvicina per il ciclo di Daniel Way Wolverine Origins con una saga illustrata da Carlo Barberi New Avengers The Amazing Spider-Man Ale Garza Ale Garza Supergirl e John McCree The Boys tutti quanti lo ricorderete 13 euretti e questo è uno spaccato dell'albo via lo abbiamo annunciato prima ed eccolo qui la novità Nekaz numero 1 edito per Manga Senpai eeeh no 6 euro e 90 il prezzo volume sovraccopertinato ci riesci a leggere la tua potente vista quella scritta dopo la scuola P.E.M.T. e Mentin si incontrano al loro club per costruire un meca la cosa più complicata è trovare qualcuno in grado di pilotarlo ah beh allora ce l'ho fondata io sono veramente in campione di meca veramente il vero master a me quando da ragazzino mi regalavano il meccano al massimo i pezzi le mettevo tu barretta a croce no è vero a volte facevo anche il rombo ah ma lei è un no ma vabbè ha le sue spalle delle performance meraviglievoli versus verso il nemico no chi è chi è gli autori Brandon Ivan Brandon che non è quello di Beverly Hills Esad Ribitz e Nick Klein quindi un paio di disegnatori niente Mario andiamo a far vedere qualcosa di dentro cartonatissimo per panini si scrocchiarella come dice Gianmarco e vi vado a dire che quando la guerra diventa uno show eserciti privati di superstar del combattimento si scontrano non per la libertà ma per la fama per il profitto e per la gloria delle loro nazioni sponsor l'arrivo di una nuova generazione di soldati porterà Satta Flynn il più celebre dei gladiatori a scoprire in prima persona quanto fugaci defimere possano essere le luci della ribalta lo scrittore Ivan Brandon di Biking e il disegnatore fuori classe Esad Ribitz danno vita anche grazie ai colori pittorici di Nick Klein a una storia di fantascienza vincente e ricca di spettacolari scene di azione ambientata in una società caratterizzata dalla ricerca ossessiva e autodistruttiva della fama nella quale non è così difficile vedere un riflesso distorto della nostra contiene Versus storia del 2018 dal numero 1 al numero 5 e andiamo avanti con Twins Star Exorcist numero 15 4,50 euro per Planet Manga e passa la paura passa proprio la paura poi altro cartonato panini God Country eccolo qua la salvezza è una lama a doppio taglio Donny Cates lo scrittore che ormai scrive tutto e sa tutto e fa tutto insieme a Shaw andiamo a leggere qualche cosa anche in questo caso una tempesta di rara violenza un uomo colpito dal morbo di Alzheimer suo figlio sua nuora e sua nipote un demone venuto da chissà dove una spada dotata di poteri incredibili oltre che di una volontà propria capace di ridare la salute e a chi la brandisce e un pantheon di divinità aliene pronte a far di tutto per tornare per tornarne in possesso sono questi gli ingredienti della miniserie indipendente più spettacolare emozionante acclamata degli ultimi anni che ha lanciato nell'olimpo dei comics i suoi creatori lo scrittore Donny Cates che ricordate tutti per Venom e il disegnatore Geof Show Thanos una storia che è già un classico fatta di battaglie di amori perduti di malattie di rapporti familiari di mondi lontanissimi e delle piccole e grandi difficoltà della vita di ogni giorno contiene God Country di storia del 2017 dall'1 al 6 andiamo a vedere Geof Show come disegna niente Mario e sono molto curioso e sono molto curioso ti passo qualche cosa hai finito sono spoglio le armi al tuo arco hai finito e poi piano piano ti passerò altro materiale poi poi altra storia molto interessante il primo numero mi è riuscito moltissimo attenzione sono passati 15 anni tra il numero 1 e il numero 2 te che ti lamentavi di unemployed mentre tra 2 e 3 veramente c'è stato meno tempo il problema è che io mi devo rileggere il numero 1 perché mi ricordo molto poco ma finalmente è tornato Rumble numero 3 attenzione il grande John Arcudi ha i testi questa volta coadiuvato sempre da Harren ma c'è pure Stuart che ha i colori non lo so però insomma ci fa sempre molto piacere spoglie mortali per questa storia veramente veramente fichissima niente niente male altamente consigliato provate Rumble numero 1 prezzo 19 euro e l'è salito però eh si dici perché era quel 15 storie dall'11 al 15 eh però ritorno alla saga fantasy weird più imprevedibile degli ultimi anni soprattutto è imprevedibile quando esce eh si beh dubbiamente si speciale normale gli anni di Pandora con un fumetto di Leo Ortolani 15 euro c'è qualcosa che fa con la normale di Pisa se non vado errato era dedicato le lezioni della normale sì sì la normale di Pisa sì 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 yes premi nobili medaglie presidenze la scuola normale superiore di Pisa è uno degli Atenei più prestigiosi Atenei Atenei ho sbagliato ho sbagliato lo so ho sbagliato Atenei scusami l'altro giorno ho beccato uno che invece di Frassino ho detto Frassino e c'è gente che continua a dire Edile e non Edile eh no De Goccio chiedo profondamente Venia vabbè va Atenei ma che cosa si nasconde dietro questa alta reputazione è un caso per Mysterious il programma creato da Leo Ortolani per indagare i misteri della scienza scopriamo così che la normale è stata fondata perché Napoleone non sapeva come ordinare al bar che il direttore della scuola vive in un'armadietta e che il mondo è vittima di un temibile complotto ordinato da una potentissima quanto insospettabile lobby bene io faccio vedere una tripletta di albi spillatini della Marvel Capitan America il numero 106 ovvero il 3 del Fresh Start poi sento molto leggero però forse c'è qualche pagina in più effettivamente Deadpool numero 126 il cui prezzo è di 3 euro e 50 devono essere forza due storie infatti ci sono due storie ok e poi Iron Man numero 68 Tony Stark Iron Man eccolo qui prezzo 2 euro oppure lui numero precedente che ho letto praticamente una pagina sì una pagina no perché me stavo un po' allessando però non lo voglio abbandonare perché il primo numero per me è stato talmente brutto che tutto quello che c'è dopo è stato meglio bravo bravo hai detto giusto è vero sta cosa il secondo non mi era dispiaciuto il terzo un po' un po' l'agnosetto ho saltato un po' le parti quelle un po' giocherecce ok ho letto la parte un po' più storiosa non mi sento di abbandonarlo Thor l'ho cannato invece Thor lo sai che ce sto avvicino pure io sono onesto proprio sto pezzo di Aaron non mi sta soddisfacendo sono gusti personali non è che per carità non prendetela sul personale e arriviamo con Shintaro Okago Okage Shintaro Kago ma che te sei ubriacato di Sanremo ma che hai fatto no giuro ma che c'è l'autotune che hai fatto no niente sei troppo emozionato si è l'emozione della diretta che mi fa Shintaro Kago la sposa davanti e la stazione questa potrebbe essere una storia per me la sposa di dietro 18 euro per Ikari volume con attento quello che fa vedere che Shintaro guarda prima guarda prima guarda tutto normale tutto normale vabbè mi fido di te Phantom l'uomo mascherato editoriale Cosmo che puma un masterino così altro volume ozzo 42 pleuri il capostipite degli eroi mascherati davvero la ristappa completa delle tavole domenicali a colori scritte a leaf folk e disegnate da Ray Moore in questo volume vengono pubblicate con un adeguato restauro sette storie complete pubblicate originalmente dal 18 ottobre il 42 al 2 dicembre del 45 mamma mia quanti anni ha questo carpio lavoro ricco ricco micipicco vadi vadi e poi sarò breve è il titolo proprio di squats 18 euro squat non ci credo mi fido eris 20 anni di fumetti brevi e brevissimi pubblicati sulle più disparate riviste italiane dalle fanzines autoprodotte a frigider da il male a linus da barricate internazionali barricate niente oggi stai proprio l'imperdibile semidefinitivo compendio dei lavori di un autore frizzante ma riflessivo violento ma affettuoso colto ma non pedante ironico senza essere cinico modesto ma ok che pensate di sentirvi dire da uno che si scrive le note di copertina da solo non saprei è scritto qua dietro poi prosegue secondo numero dopo il vendutissimo primo numero sia degli x-men ma anche di devil di frank miller eccolo qua l'integrale degli x-men di chris claremont eccolo qua il prezzissimo dovrebbe essere 4 euro e 90 non lo trovo più eccolo qua arriva fenice è alla grande coloratissimo o corolatissimo come preferite voi ma di marvel in marvel boom ma semi boom ma boom ma io sono iron man magari 20 a noi ci servono due armature una che seguire davanti e forse c'è chiappa forse e almeno un per cento dei soldi che c'ha almeno esatto allora 25 euro questo pomamasterone che contiene tale of suspense 1959 numero 39 il 91 ai ah no dal 39 al 91 iron man 1968 dal 54 al 128 215 215 216 232 262 iron man 1996 numero 1 iron man 1988 numero 50 civil world confession invincible iron man 2008 5 numero 500 invincible iron man 2015 593 che hai detto non lo so spero che voi abbiate capito cercavo di ma non credo di aver riproposto tutta la numerazione ah guarda però che bei disegni cioè pure la la silver centurion non sbaglio? no no l'armatura di iron man ti passo un altro po' da cose così almeno cerco di dare tutta roba facile va bene tutta roba facile mi tengo solo un faglio di americani io per farvi vedere come sono sguinciosi gli x-men oro numero 16 e anche la spoiler alert anti variant spread questa busta contiene uno spoiler aprite la vostra rischio è spericolo è spoilericolo va bene ci sarà qualcosa c'è un invito per un matrimonio è invito il matrimonio del secolo prezzo 4,20 euro per la regular e 6 euro per la imboosted edition che i collezionisti ovviamente non apriranno manco se sparati manco 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 ma prego andiamo avanti con amazing spider man del numero 7 del fresh start ma numero 716 la numerazione regolare e costo 3,90 euro contiene 4 storie spencer ramos zarsky e bachlow è arrivato baccello baccello all'interno ai confini di spider gaddon mi toccherà leggere pure la seconda storia ah vabbè lo sto apprezzando io sto due numeri no questo è quello prima indietro piccole ballate crudeli sempre per shock dom se non sbaglio volumetto a 15 euro di marga black banshee biazzi ma guardate che belli questi disegni ammazzano che spettacolo veramente un tratto che spettacolo bellissimo veramente una fiaba scura ma molto interessante 10 verdi ballate oltre il velo del reale dove vivono i deliziosi e feroci figli della natura racconti troppo brevi perché ci si è dato conoscerne il futuro o la storia passata del solo presente ci è dato sapere ad altro non pubblico a tutto 15 euro per shock veramente molto bello a vedersi così veramente ve lo devo dire ve lo dico e ne parlavamo prima ecco il numero 5 del fresh start di torra 2 euro al bettino di quelli della nuova versione infatti c'è una storia sola di Aaron e Ward lui vecchi lei bene lo prendi questo e io questo me lo prendo te lo prendi ma ancora gli dai fiducia vabbè però me lo fai riassunto non so se ti occupa vabbè no me lo vedi i mondi di torgal chris di valnor questo non ricordo che numero sia il quarto forse contiene i mondi di torgal chris di valnor volumi 7 ed 8 ma ma se leggiamo qua dentro si sarebbe il quarto di chris di valnor perché ci sono un paio di storie all'interno molto molto bello dorison mariol e vigno la montagna del tempo 100% panini comics 14 euro veramente molto molto bello continua infinity wars numero 3 marvel mini serie 212 al prezzo di 3 euro e 90 che c'è mike deoteato mike deoteato junior e jerry duggan alla storia capitolo 2 capitolo 3 benissimo poi altro puma masteroid perché comunque è una bella sleppotta e non sembra ma se ve lo avvicino vedrete che è una signorana signora è bello sbadainz terry e i pirati 1939-1940 l'edizione definitiva del rivoluzionario capolavoro della striscia fumetti di milton caniff e guardate che belva sbadainz e qui c'è la storia del fumetto ragazzi ve lo dico sempre quando vi faccio vedere questi volumi history history poi fresh stock numero 4 continua la storia degli avengers che mi sta piacendo una cifra questo qui 3 euro e 50 molto interessante molto interessante lo dico così io ho letto il terzo però mi ricordo veramente poco abbiamo Aaron McGuinness Medina e Pichelli mi diceva che Pinozzo mi diceva che andando avanti migliorava poi un po' di materiale dell'editoriale Cosmo in particolare Cosmo Comics che ci propone The Massive attenzione storie dall'1 al 6 e le storie brevi apparse su Dark Horse presenta 810 18 euro e 90 questo volume raccoglie a prodo e pacifico i primi due cicli della serie che ha ridefinito il genere post apocalittico nel mondo del fumetto quindi mi viene da pensare sono i numeri che aveva pubblicato la Panini quindi probabilmente la cover qualcosa mi ricorda grandissimo Brian Wood se siete degli estimatori delle cose scritte bene Wood fa per voi secondo me si è la ristampa delle storie della Panini può essere può essere può essere 5 salute quasi 6 prego numero 17 per il brussureto dei Champions 10 euro e 90 cambia formatone cambia formatone e qui abbiamo Aurora Boreale e abbiamo 4 4 storie dei Champions molto molto the price 10 euro e 90 ah scusami non ti avevo sentito poi Cosmo Fantasy invece ci propone il terzo numero di le cronache di Corum che sta avendo un successo strepitoso devo dirlo vende tantissimo ma d'altronde quando si parla di Mike Mignola è 12 euro e 90 tratto da The Michael Mulcock Library ecco anche se su questo numero ma sai che Mignola fa solo la cover perché non lo vedo dentro vedo Mike Barron Ken Hooper Jill Thompson Kelly Jones ma sicuramente ne vale la pena si 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 ma andiamo avanti andiamo avanti con Cartoonated Cartoonated di Captain Marvel origini oscure si avvicina al film cominciano le antologie su Captain Marvel a 16 euro Panini Comics e contiene Captain Marvel del 2017 da 125 a 129 non so se c'era un numero perché non so se c'è storie inedite dentro lo sai non lo so l'altro Gianmarco mi diceva che proveniente c'è una storie inedite lui si è preso quindi potrebbe quasi darsi potrebbe potrebbe non è detto non lo so altro successo per la Cosmo che ci ha visto molto bene sempre Cosmo Fantasy 12 euro e 90 abbiamo il terzo se non mi ho aderrato albo di Dark Souls le leggende della fiamma 12 euro e 90 ricche ricche storie eh mica Mario eh no belli 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 tu hai finito il materiale ce n'è guarda qualcosa dai passo ancora vai 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 a sto punto fai vedere tu che ho fatto vedere tu e andiamo avanti con il cartonato di Hit Girl in Canada 16 euro numero 3 numero 2 2 sì sì perché prima in Colombia ah ok ok neve rosso sangue ma dovrebbe finire pure a Roma lo sai ah sì mi pare si sa si fa tutto il mondo e sulle tracce dei trafficanti di droga minghia in Canada per fermare un ex giocatore che è diventato signore della droga attirata in una desolazione fatta di ghiaccio e neve sarà braccata come un animale sul territorio aspero anche per la più dura ragazzina di New York oh yeah Jeff Lemire Eduardo Risso e Mark Millau mica tre qualsiasi così la sono buttati là no 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 assolutamente è uscito poi finalmente dopo tanto tempo il settimo volume di Uber che era attesissimo Avatar Press pubblicata da Panini Comics 18 euro le forze dell'asse hanno compiuto un'impresa impensabile insieme ai loro soldati potenziati sono sbarcati direttamente sul territorio statunitense ottenendo una serie di vittorie abbiamo prigioniero di guerra Kiron Gillen e Daniel Goethe vai così vai così che siamo arrivati alla fine vai così numero 16 della Don Rosa Library Zio Paperone e Paperino l'opera integrata di Don Rosa 8 euro e 90 volume con alette e contiene e contiene Zio Paperone il segreto dell'olandese Zio Paperone e fuga della valle proibita Paperino la ricerca del Kalevala yes e vai così 8 euro e vai così ultima cosa io vi faccio vedere altro materiale della Cosmo American Flag quarto volume 29 euro e 90 per l'opera di Hour Shaking una star televisiva decaduta che per una qualche strana ragione si ritrova a dovere fare lo sceriffo e anche questo è parte della storia del fumetto oh yeah molto 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 bene allora che cosa dire ragazzi oltre ad invitarvi come al solito ad iscrivervi a tutto quello che è possibile canale campanellina mettete un mi piace fateci contenti fateci vedere a quanti mi piace riusciamo ad arrivare a certo generalmente ci arriviamo uno sforzino così sto video vediamo dai almeno il doppio dai almeno 200 vediamo un pochetto ci date un po' di soddisfazione pure a noi perché il nostro comunque è un impegno quello che abbiamo con voi però premiateci così tanto a noi non ci torna niente indietro un po' solo un po' di soddisfazione che per carità ci avete data perché superati i 2000 iscritti andiamo verso i 2100 quella ce la date però insomma ci sono anche altre cose insomma piccole piccole piccolezze che però fanno tanto è un piccolo gesto per tanta gratificazione dei nostri confronti e a questo punto nell'info box vi lasciamo tutto quello che è possibile recuperare se non avete una fumetteria nelle vicinanze le battaglie sono tante vieni avanti alita gigante e questo è proprio il caso di dirlo e che Ciprimerlo vegli sempre sulle nostre panze questa volta perché The Panzer Edition c'è la Panzer è tutto Panzer è tutta una Panzer non va a Panzer ciao